Ti faccio vedere un video. Ti ricordi la pubblicità quella dei nudo? Che io ero nudo, bianco. Nudo, è pasta. Sì, pasta. Tu non lo so, bianco. Non ti ricordi questo? Non ti ho fatto un video. No, non mi sto. Mi sono venuto a prendere una volta. Krista! Perché non cuore la cuore? Ok, dame! Questo sono io. Mora io, mora io, mora io. Mio nome si è il cappello con le orecchie così. Oh, mio gangster. Guarda, io sparo, guarda. Questo sono io. You're a gangster. Un gangster italiano. Quindi il mio rapporto con i giapponesi comincia tanti anni fa. Praticamente, they came here, sono venuti qui e hanno fatto una selezione. And they did a selection between 150 bambini in Alberobello. It was very easy for me. So they said, tu devi venire in front of the camera. E dopo loro hanno detto, prendi questa mitra, no? Questa shotgun. And you're supposed to do this, no? On the floor. And then do this. It was very easy for me. So I ride there, yeah, it's fatta tutto così. Ok, e abbiamo fatto questa pubblicità di questa pasta giapponese. Allora non lo so perché ci hanno fatto fare pasta, sole, bella macchina, and so, italiano, uno pensa italiano, pasta, mafia, no? Tu lo sapevi però che l'avevo fatto. You think you show me photo? No, no le foto, non ti avevo fatto vedere il video. To a gangster piccolo, and io solo carissima quando io piccolo. Ah, io gangster da piccolo, e tu principessa? Principessa. Principessa. Ah, a principessa with a gangster? Come è la storia. Ah, che gangster come... Bella e la bestia. Ah, la bella e la bestia. Ah, la bella e la bestia.